La nona edizione della Traversata dei Leoni porterà circa 500 nuotatori sul lago di Monate domenica 28 luglio, come si aspetta Luca Galli, presidente dell'associazione Ixunta Leones e organizzatore della manifestazione. Sarà una gara per tutti, sono circa due chilometri e mezzo, ma ci sarà anche una gara all'inizio della mattinata, verso le 8 e un quarto del mattino, un po' presto lo so, ma questo è per tenere un po' la temperatura corporea bassa, ci sarà una gara molto importante che prevede di fare tutto il periplo del lago, quindi 7,7 km, questo è per nuotatori, non dico veri, però per nuotatori molto ben allenati. Vi aspettiamo domenica, dicevo, presso il Lido della Cannottieri Monate, posso leggervi un attimino il programma, il programma sarà, la prima gara inizierà alle 8 e un quarto del mattino, la seconda gara alle 12 e 30, questo permetterà ai partecipanti e anche a chi non farà la gara di vivere tutta una giornata con noi, perché oltre alla gara ci saranno anche delle possibilità di svago durante la giornata. Sarà con noi il Radiolupo Solitario, che ci allieterà sin dall'inizio della mattina per tutta la giornata, con musica e intermezzi vari, ci sarà la cucina aperta, quindi si potrà pranzare, si potrà bere qualcosa di rinfrescante e onestamente l'augurio che faccio è che il tempo tenga e ci permetta di fare un'altra giornata di festa, come abbiamo fatto l'anno scorso. Venite perché ci sono anche altre sorprese che magari adesso mi tengo, ma visitate il nostro sito www.ixunteleonesvarese.it Il Lago di Monate è lo specchio d'acqua ideale per chi ama nuotare in acque aperte. Il Lago di Monate credo che sia la miglior piscina naturale italiana, è un lago piccolo e quindi può essere attraversato in diverse direzioni, è un lago nella cui temperatura nell'acqua è di solito abbastanza calda, quindi permette di andare senza muta sin dai primi, non dai primi mesi dell'anno, ma diciamo da maggio, da maggio fino a settembre, ottobre. È un lago particolarmente tutelato per la parte ambientale, le barche a motore non possono andarci, se non con speciali autorizzazioni, e questo fa sì che è molto pulito. Di solito anche in condizioni meteo sfavorevoli non ci sono onde particolarmente alte, quindi l'acqua è di solito molto tranquilla. Tutto questo insieme fa sì che è veramente una piscina naturale di altissimo livello.